Un party dalla dimensione poliedrica che contamina musica, arte, intrattenimento in una cornice inconsueta, uno storico teatro Liberty. Questo è Weekender che dal 28 novembre arriva al Quirinetta Caffè Concerto con, in occasione del primo sabato di appuntamento, un ospite veramente speciale. La serata infatti avrà una guest tutta da scoprire Crazy P con le sue sonorità New Disco e House. Il progetto Crazy P è nato come duo nel 1995 da Chris Todd e Jim Barron e gravita nella scena underground inglese da 20 anni. Sembra non si sia proprio stancato di produrre musica eccezionale e quindi è tutto da godere e scoprire nella prima serata di inaugurazione di Weekender alla Quirinetta Caffè Concerto il 28 novembre.